Il Consiglio non è andato benissimo nel senso che abbiamo cercato di confutare quelle che erano le posizioni secondo noi un po' pregiudiziali da parte della maggioranza ma non ci siamo riusciti e quindi anche se in Consiglio abbiamo ribadito per esempio che il costo del referendum sarebbe stato zero se solo avessimo trovato 20 consigli comunali ad approvare le delibere perché si sarebbe potuto benissimo accorpare per esempio con quelle delle trivelle. E poi l'altra questione che ci sta a cuore chiarire ai nostri concittadini è la questione che riguarda il contenuto del referendum perché questo è il referendum abrogativo primo che si fa nella storia della nostra regione e il contenuto non riguardava la riforma sanitaria ma non voleva riguardare la riforma sanitaria bensì cambiare gli strumenti per allargare in modo più democratico la scrittura delle leggi e quindi ampliare il potere farlo passare dalla giunta al consiglio regionale in cui sono rappresentate anche le opposizioni. Questo perché per evitare proprio quanto è successo a Natale quando vi ricorderete con la delibera di giunta 1183 c'è stata tutta quella confusione in cui si è inserito anche con abbastanza forza il nostro sindaco chiedendo all'inizio l'abrogazione di questa delibera e poi dopo in modo più delicato chiedendo la sospensione. Attualmente questa delibera è tuttora sospesa. Noi pensavamo di aver fornito ai sindaci del nostro territorio degli strumenti da cogliere al volo invece purtroppo per motivi politici o forse più partitici non è stato fatto. Ecco però la raccolta delle firme non è andata in soffitta, non vi arrendete? No certo non ci arrendiamo, purtroppo i tempi si dilateranno perché a questo punto la data del 28 febbraio 2016 è troppo vicina quindi non ce la faremo però per l'anno prossimo a livello regionale ci stiamo già organizzando per cominciare a raccogliere le firme tramite i banchetti.